Britney Spears ce l'ha fatta. Il padre Jamie ha accettato di rinunciare al ruolo di tutore per evitare l'ulteriore inasprimento della battaglia legale avviata dalla cantante nei suoi confronti. L'uomo non ha precisato quando farà il passo indietro, ha detto di dover ancora chiudere questioni insolute. Ma Britney, oggi 39enne, festeggia la fine dell'oppressione, così la definita, durata 13 anni. Ha accusato il padre di averla derubata, di averle fatto assumere farmaci contro la sua volontà, di averle impedito di avere altri figli. Nel 2008 l'uomo aveva assunto la tutela della figlia e il controllo delle finanze. Se le persone conoscessero lo stato mentale che affliggeva Britney, farebbero l'elogio di Mr. Spears, ha dichiarato il team difensivo del genitore, in risposta ai fan solidali con la cantante.